Italia 1 Io sono il Maggiore Pail Sono qui per informarci che avete il sottoscritto come vostro comandante E' un vero duro, ma in fondo ha un cuore tenero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Io farò di voi dei veri uomini Il Maggiore Pail su Italia 1, giovedì alle 21